Quest'anno cade il centotrentesimo della nascita e il quarantesimo della morte. Qui abbiamo anche dei familiari dell'ingegner Miozzi che ringraziamo della loro presenza e ringrazio naturalmente anche tutti gli altri che hanno potuto essere qui presenti con lui. E quindi appunto per commemorare la figura dell'ingegner Miozzi, per ricordare le sue opere, in particolare nella città di Venezia, abbiamo commissionato a Ficchiano di Asioli questo filmato che presentiamo tra qualche minuto. È una diecina di minuti quindi non è assolutamente lungo, però insomma dà l'idea di quelle che sono state le opere che lui ha realizzato tra l'altro in Pissignani qui nella città di Venezia. erano altri tempi, le cose si potevano evidentemente fare con maggiore velocità, con più semplicità e vedremo quali sono. Passo adesso la parola a Maurizio Possato per un tello di indicazioni sul filmato e poi iniziamo il testo con i piatti. Va bene.